Ciao a tutti, io mi chiamo Maurizio Tortone, sono Product Manager e responsabile della Comunicazione Italia per la società Ariello UPS. Io ho avuto la possibilità di conoscere la società Sailing Challenge circa due anni fa, perché grazie a un nostro cliente abbiamo deciso di omaggiare ai primi dieci venditori, quindi coloro che avevano raggiunto i migliori risultati sulla vendita dei nostri prodotti, appunto questa iniziativa, ovvero quella di provare un'esperienza di una regata velica. E devo dire che il format utilizzato è stato sicuramente coinvolgente e davvero davvero molto interessante, per diversi aspetti, beh allora innanzitutto è sicuramente una bella esperienza quella soprattutto per chi non l'ha mai fatto, chi non ha avuto modo di provare, ovvero quella di andare su una barca vela, quindi provare ad andare l'emozione che c'è di farsi trascinare dal vento. Ma poi la cosa sicuramente singolare è quella che la società Sailing Challenge ha dato la possibilità di fare un corso, quindi c'è prima questo corso formativo con uno skipper molto professionale che ti dà tutte le indicazioni di base, cioè quindi tutte quelle informazioni di base che ti possono essere utili appunto per affrontare la tua prima esperienza in barca vela. E quindi questo è un aspetto sicuramente determinante. Poi si va sulla barca, si fa un'altra parte di formazione direttamente a bordo della barca e dopodiché si parte, quindi si parte coadiuvati da uno skipper che naturalmente gli dà tutte le indicazioni del caso e quindi si inizia questa bellissima, bellissima esperienza. Per quanto riguarda i risultati che si possono ottenere da parte di una società che può organizzare un evento di questo tipo, è sicuramente quella di mettere insieme queste persone, perché comunque quello che si dice in un contesto velico, sicuramente c'è un'aggregazione di team, quindi passa molto forte questo messaggio. Ci si scambiano gli aiuti, perché ognuno è assolutamente indispensabile sull'imbarcazione, perché chi ha ovviamente la funzione di stare al timone, chi deve tirare una vela, chi deve spingere magari l'argano per gestire quelle che sono le direzioni del vento. Quindi ognuno ha un proprio compito, un proprio ruolo. Quindi c'è sicuramente una condizione di aggregazione, di gruppo, che ti fa sentire tutti importanti allo stesso modo. E poi anche un modo per magari riuscire a conoscersi anche meglio. Quindi io vedo magari in un contesto aziendale, dove spesso si è tutti alle prese con raggiungimento degli obiettivi, dei budget, dei fatturati, dei risultati in generale, a seconda poi di quale mansione possa ricoprire uno rispetto ad un altro. Ed è sicuramente un modo per condividere, creare gruppo e aggregazione. Quindi è un'esperienza che assolutamente consiglio. Lo staff e gli skipper sono di assoluti altissimi livelli di preparazione, molto disponibili e sempre con anche il sorriso sulle labbra e prendere anche le cose un po' come gioco e con ironia. Quindi assolutamente io consiglio questa esperienza che poi vedrete che dal punto di vista di eventi aziendali può avere sicuramente un impatto che piace molto ai propri collaboratori piuttosto che clienti. Quindi sono format che a livello di marketing possono ripercuotere un grande interesse.